Siamo in diretta, stiamo per partire un attimo. Benvenuti a Radio Design, la radio dell'Istituto Italiano di Design. Oggi sono in compagnia di Marco Morello. Benvenuto Marco. Buongiorno. Esatto, ancora giorno. Allora oggi parliamo di web genitori. Anzi, prima presentati, chi è Marco Morello? Allora, Marco Morello è uno smanettone. Ho gli occhiali anche da nerd, che in radio non si vedono, ma sulla diretta Instagram sì. Ho avuto un percorso tra il digitale, prima che addirittura nascesse il web, e l'umanistico, perché poi la mia formazione è più umanistica, quindi sono il cosiddetto informatico umanista. E nel mio percorso ho fatto tante cose, ho aiutato tante aziende in vari ambiti, specialmente nell'ambito del digitale. Io sono quello che nelle aziende si chiamava una volta il sistemista, che non è quello che fa la schedina, ma è quello che si occupa dei sistemi informativi. E quindi ho conosciuto la parte, diciamo, fisica del digitale. E poi dopo però mi sono appassionato a quella azione, e quindi quando è nato il web mi sono appassionato di quell'ambito, e quindi quella poi è diventata la mia strada. E quindi da quella sono nate poi la mia prima web agency, poi vari progetti web, un e-commerce, varie cose. E oggi, insomma, mi occupo, e una cosa che volevo fare da bambino era il maestro. Quindi io volevo fare il maestro, però poi non l'ho fatto. E accumulata tanta, diciamo, competenza nell'ambito del digitale, a un certo punto però sono riuscito a fare anche questa cosa. Quindi sono riuscito a fare quello che trasferisce la competenza. E qui arriviamo a web genitori. Cos'è web genitori? Allora, web genitori è un team di professionisti che si occupano di, diciamo, di far crescere i giovani con consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti attuali. Quindi nel team c'è chi si occupa della parte psicologica e emotiva, chi si occupa della parte di contenuto, quindi della parte di competenza tecnica, che sono io, lo smanettone. Insomma, è un team composito dove le competenze vengono messe insieme per un progetto e ogni volta si realizza appunto la progettualità a seconda delle richieste del committente. Quindi noi facciamo tante attività nostre e facciamo attività anche per altri che ci coinvolgono in progetti per la robotica educativa, per la realtà aumentata, come adesso poi magari racconteremo, per il coding, vari progetti che sono un po' nostri, quindi noi lanciamo il nostro campus che si chiama Eppinet, però siamo coinvolti anche da aziende per fare, per esempio, le attività di responsabilità sociale, molte aziende fanno questo, coinvolgono professionisti per lasciare qualcosa di positivo alla comunità di persone che gira intorno, quindi alle famiglie, anche alle famiglie dei dipendenti, per esempio. E questa è una delle attività che facciamo, ci chiedono delle proposte per far, diciamo, divertire i ragazzini in modo intelligente, noi proponiamo le cose con cui siamo molto bravi, quindi Nube può alla fine portare sempre dei risultati. Cos'è il coder dojo? Oh, il coder dojo. Lo chiedo d'anni ma non sono mai andato su Wikipedia a cercare. Allora, il coder dojo, sono due parole, coder vuol dire programmatore, il dojo è la palestra dove si apprendono le arti marziali, quindi il coder dojo sarebbe la palestra dove si impara a programmare. Le arti marziali, diciamo, non è coder palestra, coder gym, e coder dojo è per una ragione perché nel dojo, nelle arti marziali, la parte etica è molto importante, quindi il rispetto degli altri, la collaborazione, cioè ci sono dei valori che vengono dal mondo delle arti marziali che riportati nel mondo, diciamo, della programmazione, vuol dire fare il lavoro ad insieme, avere rispetto degli altri. È un posto dove i bambini imparano gratuitamente a programmare giocando, perché poi ogni sessione del coder dojo, poi basta andare sul sito coderdojoperugia.com, dojo con la J, con la ilunga di Jolly, rigorosamente, coderdojoperugia.com, gli appuntamenti sono mensili e ogni appuntamento fa fare un'esperienza ai bambini dai sette, noi abbiamo un gruppo dai sette ai tredici anni più o meno, sono divisi in due gruppi, i ninja, che sono i più giovani, e i samurai, che sono quelli più forgiati. Che figa! E praticamente questi due gruppi ogni volta portano a casa un'esperienza, quindi entri all'inizio del coder dojo, si tiene al sabato pomeriggio di solito, quindi sono tre ore, entri e fai un'esperienza, torni a casa avendo imparato una cosa, quella cosa la sai fare. Quindi di solito... Ci fai un esempio, un progetto di un ninja? Cosa fa un ninja? Beh, allora io ti dico cosa... In verità cosa fa, un po' dipende anche da lui, perché io lancio... Io sono il cosiddetto coder dojo champion, quello che fa accadere questa cosa, poi sono affiancato da dei mentor, che sono persone che stanno proprio vicino ai ragazzi, mentre fanno l'esperienza. Io, per esempio, lancio l'idea di realizzare un videogioco, no? Quindi oggi facciamo un videogioco dove ci sono dei unicorni, raggio laser dall'unicorno, dal loro corno, no? Ok. Ok. E mentre faccio questa cosa, però, non è un corso, non è una scuola, quindi io lancio degli input, lancio degli suggerimenti, delle idee, e li guido per realizzarle poi. Però stavo facendo questa cosa e tre ragazzini sono partiti a fare un'altra roba e io ho detto, scusate, ma io sto facendo questa cosa con gli unicorni? Gli unicorni sono da femmina. Noi facciamo un'altra cosa. e in quelle tre ore hanno fatto Pac-Man. Ah, fegno. Cioè, il più grande videogioco della storia l'hanno fatto in tre ore. Cioè, non hanno fatto Pac-Man, tutto fatto finito. Però, il concetto. Però, hanno fatto una pallina che si muove sullo schermo, che scappa da un fantasmino, che non deve sbattere contro il muovo. Cioè, io stavo spiegando una cosa, un percorso, ma questo percorso ha fatto venire in mente loro un'altra cosa e poi li abbiamo affiancati per realizzarla. Quindi, in due volte hanno fatto davvero Pac-Man. Bello. Cioè, se penso alla mia infanzia triste, li invidio tanto, perché io andavo in bici e basta. Eh, ma la bici ci vuole, perché poi una parte importante del nostro lavoro è staccarli dalla tecnologia. Cioè, se c'è una cosa che è un vantaggio nell'approccio di web genitori nelle sue attività è che noi passiamo a questo concetto che la tecnologia serve a fare qualcosa. Certo. Non è che noi serviamo alla tecnologia. La tecnologia ci vuole dentro un meccanismo tritatutto che ci vende poi cose a manetta. Ecco, noi quello che cerchiamo di fare con i ragazzi è di spiegargli che non spiegargli, perché poi spiegare non serve a nulla. Fagli vivere un'esperienza in cui loro usano la tecnologia per esprimere se stessi, per la propria creatività o la propria progettualità. Se hanno da fare qualcosa, ma anche qualcosa, non dico per falsi compiti, dico se vogliono realizzare il video del loro gruppo musicale appena nato, oppure se vogliono fare il, che ne so, il resoconto della partita di calcio in modo creativo e digitale. Se vogliono fare un cartone animato, lo fanno loro, no? Certo. Quindi, quando tu gli dici che la tecnologia, quella che hanno in mano già adesso, lo smartphone, il tablet, il computer portatile, che hanno la maggior parte dei ragazzini, adesso a dieci anni ha già uno smartphone da 500 euro, quindi, cioè, ha delle potenzialità inespresse, no? Certo. Quando gli fai vedere queste cose, loro parte del tempo che avrebbero dedicato all'utilizzo becero della tecnologia o fare stupidaggini, lo usano per esprimersi, per creare qualcosa e quando crei qualcosa ti scatta qualcosa dentro che, cioè, invece di passare a domenica pomeriggio a fare un videogioco idiota, ti sei creato tu il tuo videogioco e diciamo il coinvolgimento intellettuale anche di motivazione, di espressione di sé, di fiducia in se stessi, è una cosa incredibile, vedi dei cambiamenti anche grazie soltanto ad aver realizzato e presentato a un pubblico il proprio videogioco, tu hai un cambiamento nei ragazzini, fantastico, perché si sentono sicuri di quello che hanno fatto, l'hanno fatto proprio loro, perché io gli do la strada e gli appianco, ma io non faccio niente per loro, cioè i mentor stanno vicini ai ragazzini e questo vale sia per il mondo del codice sia per tutte le nostre attività. Bello, molto bello. Poi tra le altre attività ho visto c'è la robotica, quindi c'è, proprio montano da loro un... Sì, allora, diciamo che il mondo della robotica educativa e della robotica in generale, allora si usa sempre questa robotica educativa, quando tu fai delle attività con i ragazzi ovviamente c'è un percorso didattico, ma quello che facciamo noi è sempre cercare il modo di divertirci, perché la chiave diciamo, agganciarli è uno dei motivi per cui amiamo molto il mondo Lego e perché il mondo Lego ti aggancia sul divertimento, ma poi ti porta dove vuoi andare tu, quindi tu vuoi guidarli verso comprensione di qualcosa che riguarda la meccanica, sei tu che li guidi, no? la chiave è farli giocare, poi giocando capiranno delle cose istintivamente senza che tu le abbia spiegate, quindi la robotica è un ambito in cui l'ingaggio è molto alto, la robotica mi piace molto per un motivo, adesso non... la tecnologia io c'è il caso, quindi mi piace, certo, però i ragazzini si sono abituati a non usare più le mani, cioè, non usano più le dita, non sanno non sanno neanche prendere degli oggetti, cioè se tu gli dici... neanche io, figurati, ecco, infatti sei molto giovane, però quando gli fai fare le cose con i robot e glieli fai costruire, devono avvitare delle viti, devono attaccare dei pezzi che non sono fatti come i Lego che sono fatti apposta per... no? Devono pensarci un po', devono anche avere una... sviluppare una manualità che all'inizio trovano un po' ostica, ma poi dopo diventa una cosa quasi meditativa, cioè quando gli vedi che costruiscono i robot entrano in uno stato in cui stanno facendo una cosa che gli dà una profonda soddisfazione, perché usare questa manualità è, insomma, è una cosa importante che quando la recuperi poi ti piace e quindi la robotica è costruirli robot, quindi nella costruzione capisci anche come sono fatti, quindi capisci che molte cose che ti sembrano un po' fantascienza, eccetera, sono molto pratiche, cioè c'è un motore che fa muovere un braccio, no? Sì. Se vuoi muovere due braccia ti servono due motori oppure un motore con una certa trasmissione, insomma, devi capire delle cose e poi li programmi, cioè il robot una cosa l'hai costruito, poi è un pezzo di metallo e dei pezzi di plastica incapace di fare alcunché, finché non entra la parte della programmazione. E qui è la grande sfida, nel senso che mentre il coding tradizionale per fare videogiochi cattura l'interesse di quelli che sono interessati a questo mondo, il coding per far muovere i robot io ho visto catturare un'intera classe, ma anche di bambini che inizialmente pensavano oh ma che noia, adesso devo programmare un videogioco, ma quello che scarico dall'App Store o dal Play Store è più bello di quello che posso fare io. All'inizio è così, poi quando l'hanno fatto il loro Pac-Man è il top, è tutta un'altra roba. Però poi quando gli dici che quella roba che stanno facendo serve per muovere un robot li acchiappi tutti, cioè sono tutti interessati perché il robot si muove, lo vedi, cioè schiacci un tasto sul computer e il robot si muove, accende delle luci, fa dei suoni e li hai programmati tu e ovviamente è un modo straordinario i concetti come appunto il pensiero computazionale senza il peso di adesso studiamo la programmazione. Per fare muovere il robot faranno qualsiasi fatica e gli proporrai perché gli piaceva. Cioè tu penso lo vorrei fare anche io adesso. La prossima volta te ne porto uno. Non posso partecipare alla classe se non sono troppo grande. E poi l'ultima cosa la realtà aumentata, no? Ah certo, certo. Allora nel mondo del digitale diciamo noi io in particolare sono appassionato di tutto quello che è qualsiasi ammennicolo nuovo eccetera. Io mi appassiono e lo sperimento, lo studio. Io dico lo studio ma in verità gioco e quindi adesso ho una scusa fantastica per giocare devo fare il campus per i bambini purtroppo devo studiare sono lì a giocare con i robot e con i Lego, no? Mia figlia ha un po' questa cosa mi dice papà non è vero stai giocando lei deve fare i compiti io gioco però sono i miei compiti e quindi la realtà aumentata è una delle attività che facciamo non è che è una grande novità ma è una grande passione mia perché in verità io sono appassionato della possibilità di dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi e di lasciare tracce della loro espressione diciamo con artefatti digitali che restano. Sì. quando tu fai un inserto di realtà aumentata sulla fontana principale della tua città o quando sulla facciata del tuo del tuo comune tu stai lasciando un segno sulla tua città che è il tuo segno che è il tuo Grazie a tutti.